Salve a tutti ragazzi e siamo nuovamente tornati in un nuovo video Allora, già ragazzi, mi scuso In anticipo, mi scuso ragazzi Che non c'è il video su Fortnite, ho consueto il video su Fortnite Ma c'è quello video di mobile, perché ragazzi, praticamente Dato che, ragazzi, è l'una, io sono tornato ora per pranzare Poi devo andare nuovamente al lavoro, quindi non ho il tempo Diciamo, per aspettare che mettono in replay E quindi, ragazzi, carico un video su COD Per non farmi mancare un video giornaliero Poi, ragazzi, fatemi sapere sempre in chat Chat, vabbè, come sono abituato Facciamo, dai Aspetta, qua, mappa Ehm Crash Adesso vedete Ehm, no, niente Facciamo prima linea, mappa Dai, nooktown, dai, facciamo nooktown, ragazzi Facciamo prima linea, nooktown Cioè, ragazzi, mi scuso se Se non trovate il video di Fortnite Ma ragazzi, ma non è Non è per me, ma I replay sono stati disabilitati Su Fortnite Cioè, voi il gioco Ve lo registra, però se andate sulla carriera Sulla carriera non vi da Non vi da il replay, ragazzi Allora, intanto sì Selezioniamo la nostra arma Dai, andiamo a devastare, ragazzi Andiamo a devastare su COD, dai Andiamo a devastare Andiamo a devastare Pan, tan, tin, totan Allora Ricordo, ragazzi, che il video uscita alle 18, quindi Mica, ma, 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 manco Mi hanno fatto entrare 18, 18 e un quarto, regà Devo buscire il video Perché poi lo metterò a caricare Con la connessione del telefono Perché appena mi sco di Di caricare Di, di giocare Devo andare, quindi Mamma mia, regà Ma sono diventati più forti loro Guardate quanto Ma guardate quant'erano appostati là Cioè Stiamo perdendo per Perché quei Quei tre coglioni da là Sono messi là No, ma dai Quanto che l'abbiamo fatto Tre No, ma, ma Vabbè, ho capito Io da questo lato non ci passo più Abbiamo capito Andiamo Ma, ma, ma dai Ma che cazzo, però Ma tutti che Ma che so Camperoni, so Ma tutti sti camperoni Ma dai Ma quanto di odio Ho preso un gioco Da mobile Pure che camperano Ma dai Cioè, guardate Non si è accorto lo stronzo E ci faccio spawn kill Tentavo di far spawn kill Eh, però No, ma noi abbiamo Fatte cinque Raga Pure Pure perché ragazzi Da molto Che non gioco A quello Video di mobile Pure da molto Che non ci gioco Ma dai Ma perché non me spara Sto scemo Di merda Oh Spark finder Dai, lancia Doppia Ma dai Ah, beh dai Wab Ma raga Dai una vita Che non ci gioco Ah, uno l'ho ucciso Però Forse Avesse preso uno No Mi hanno ucciso Abbiamo perso Abbiamo perso Raga Dai Scusate ragazzi Cioè Raga Da molto Che non giocavo A Call of Duty mobile Pure anche questo Raga Da molto Da molto Che non ci giocavo Però raga Sciala Alla fine Dai Era solamente Per portarvi Un contenuto Giornale Giornaliero Poi ragazzi Fatemi sapere Sempre Sotto i commenti Cosa ne pensate Raga Se volete Anche un po' Anche Call of Duty Per quanto riguarda Intanto abbiamo perso Sì abbiamo perso Ma che vuoi Sì abbiamo perso Ma quanti kill abbiamo fatto Alla fine Abbiamo fatto Ah 11 kill però dai Non male Non male Non male 11 kill Io ragazzi Vi saluto Noi ci vedremo Ragazzi Domani sera In live Non vi Cioè ragazzi Domani si ritorna In live Domani sera Sempre su Fortnite Server private O server O partite pubbliche Ragazzi Questo lo vedremo Domani Magari vi metto Un sondaggio Io ragazzi Vi saluto Poi ragazzi Sempre iscrivetevi al canale Lasciate un bel like Attivate la campanella Da un inizio è tutto Ragazzi Ci vediamo In un prossimo video Bella Ciao ciao ragazzi Ciao ciao